Musica Benvenuti ragazzi sono sempre io e oggi sono tornato con una nuova reaction Da un mese a questa parte circa è uscito una nuova moda ovvero la Bottle Cup Kick Challenge E oggi andremo a reagire non a quelli più belli ma bensì ai fail Beh ovvio potevi reagire a quelli più belli no? Iniziamo subito con questo bellissimo tipo Ok failato E invece no Direttamente aperto con il culo Una botta di scorreggia Bravissimo Tu si che vali No 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 il bambino Oh mio dio Ho morto il bambino E' morto Mai fare video con bambini Si vabbè Si vabbè Si vabbè Oddio sto tipo E finisce male Sto tipo fa tutto praticamente Eccolo il ritorno Eh vabbè Questa è bella Questa è bella Oddio Ce la farà Ma non erano fail Ecco questo è un fail Bravo continua così No no Rip Non ce la fai Inutile E' impedito Oddio Ma che c'è Eh vabbè Direttamente con la vodka Rip vodka Rip vodka Come buttare soldi Lui l'ha capito Bravo Oddio Oddio Ci avevo creduto Volevi fosse vero Si Vai con la break No Oh papà Sei direttamente con Non so cosa c'hai in mano Non ce l'avrei mai fatta Come vestito da paperino Si Con la coda Fail Proprio col tavolo Direttamente Bravo Sono emozionato Super fail Madonna la bottiglia Che cavolo c'era dentro No No Ma è Bellissimo L'uva challenge Toglie il reggiseno con un calcio Adoro Bravo Erore nazionale Dai con la palla ce la fa Mi sa di super fail questo Come non detto Però Però È riuscito ad aprirlo No Povero Cosa Cosa diamine vuoi fare Bravo Bravo Altro lato Vediamo questo A culo A culo Sì Vabbè addirittura È più fail di mia nonna Questo Madonna Marshmello Proprio a lui E non ne sbaglia una Mi sa che questo lo sbaglia Come non detto Si è visto pure un pezzo di chiappa Cosa vuole fare Con lo skateboard No Vai col gatto Pure il gatto è bravo Meglio di me No Ma la vedo brutta Ma sbaglio ho visto un piede C'è una bambola Serio Ma Ma No va bene Vai direttamente con la ciabatta Lei si che ha capito tutto Vai rompiamo questa bottiglia Ma hai fail pure questo Beh meglio bere Wow Questo è bellissimo Wow Ecco un altro gatto Bravo gatto Caccao Surprise motherfucker Fuck the system proprio Bravo Oddio Questo non me lo vedo bene Bene Caccio è andato a quel paese Ma che La ciazza è andato a quel paese Perché lui tipo Si è messo a mangiare Guarda pure io lo saprei fare Bravo Addirittura Che calcio era quello Bene Quando il gioco si fa duro Spara con una pistola L'unico modo era questo Ok Io direi di chiudere qua Questo video Abbiamo visto dei fail assurdi Alcuni Altri non erano tanto fail Almeno a mio parere Spero che questo video vi sia piaciuto Se si lascia tu like Iscrivetevi al canale Seguitemi su Instagram E su altri social Link in descrizione Perché carico sempre foto belle E niente Noi ci vedo in un prossimo video Noi ci vediamo